Ben trovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo sino al 30 novembre dalle 22 alle 6 esclusi giorni fessivi e prefessivi per lavori e istituito restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra i svincoli Salerno Centro e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sul raccordo di Benevento sino a venerdì 1 dicembre nella fascia oraria 7.17 per lavori attivo restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Benevento della A16 Napoli-Canosa e l'uscita San Giorgio del Sagno in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 7.4 Domenziana fino al 30 novembre dalle 8 alle 16.30 esclusi giorni festivi e prefessivi per lavori e attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra Castelvolturno e l'innesto con la tangenziale di Napoli in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla statale 372 Telesina dal 27 novembre al 14 dicembre esclusi giorni festivi dalle 7.30 alle 17 per lavori attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra il casello di Cajanello della 1 Roma-Napoli e lo svincolo Benevento Ovest in tratti saltuari. Sulla tangenziale di Salerno tra il 27 novembre e il primo dicembre dalle 22 alle 6 per lavori sono attive chiusure notturne tra Forni e Sala a Bagnano in direzione Fratte in tratti saltuari.